Oggi abbiamo depositato in Cassazione le firme dei parlamentari necessarie per dire referendum confermativo sulla Costituzione che con ogni probabilità si terrà a fine ottobre, un referendum fondamentale che dà la possibilità ai cittadini di dire a Renzi e alla variegata maggioranza che lo sostiene quello che effettivamente si pensa della sua riforma costituzionale, una riforma che nella malaugurata ipotesi che dovesse essere approvata riporterebbe indietro qualunque discorso sul federalismo di almeno 40 anni, cioè si passerebbe immediatamente ad una nuova concezione dello Stato più centralista di quello che abbiamo conosciuto oggi. Ecco perché di fronte a tutta la retorica renziana sulla maggiore efficienza, sui minori costi, noi dobbiamo dire no a questa riforma costituzionale, dobbiamo dire no a Renzi anche perché bisogna fargli capire chiaramente che a noi del suo futuro politico che lui ha voluto collegare all'approvazione o meno di questo referendum frega sostanzialmente zero. Per cui inizia oggi una campagna che sarà importantissima, che vedrà tutti i cittadini italiani chiamati a stabilire quello che vogliono essere il loro futuro, cioè se è più centralismo oppure la possibilità di fare veramente un discorso serio su una riforma che intercetti quelli che sono veramente i bisogni degli italiani, che secondo noi è ancora l'antica ricetta di miglio, cioè più federalismo.